Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. C'è un momento in cui ci accorgiamo che il processore del nostro computer non ce la fa più, non riesce a farci mixare o a registrare o a masterizzare le nostre produzioni come vorremmo, ammettendo che abbiamo già verificato tutto ciò che riguarda la quantità di RAM, la velocità del processore e la configurazione buffer della nostra DO, andiamo a vedere come poter migliorare enormemente gli strumenti che abbiamo a disposizione perché, come vedremo, non tutto è perduto. Anzi, il primo concetto che dobbiamo capire è come funziona e lavora la CPU del nostro computer. La CPU, acronimo di Central Processing Unit o unità di elaborazione centrale, deve necessariamente pensare al processing di elementi software e hardware che sono in funzione e collegati al computer nello stesso istante, soprattutto quando noi stiamo mixando o stiamo registrando. La CPU infatti non ha un compito specifico in quel momento ma deve pensare a dialogare con elementi software del sistema operativo ed elementi hardware come le periferiche collegate alla CPU come ad esempio l'alimentazione della RAM, degli hard disk o la gestione del video anche se possediamo già una scheda video dedicata. Oppure l'uso di periferiche esterne, magari montate sulla motherboard o sulla PCI come le interfacce audio o quelle USB o Thunderbolt eccetera eccetera. Tutte operazioni che distraggono il normale svolgimento del lavoro anche se non ce ne accorgiamo. Non sto considerando gli antivirus e tutti quei programmi che girano in background come l'iLock ad esempio per la gestione delle licenze dei nostri software o tutti quei programmi di mantenimento delle licenze degli altri plugin che sempre lavorano in background e ogni tanto interpellano appunto la CPU aumentando enormemente lo stress generale. Questo semplice concetto ci fa capire che potremmo avere anche la CPU più potente del mondo ma sarà sempre influenzata dalla quantità di operazioni che sarà costretta a fare in base alle nostre configurazioni. Nonostante questo la scrittura del driver delle varie periferiche condiziona questo in minima parte ma lo fa facendoci poi preferire interfacce audio più performanti rispetto ad altre. Tutto questo viene genericamente distinto in CPU performance e real time performance. Nel nostro caso di produttori o smanettoni dell'audio la real time performance è quella che dovremo tenere d'occhio ed utilizzare come metro di giudizio a differenza di chi invece fa video e editing o lavora soltanto con i fogli di calcolo o i testi. A differenza di chi fa soltanto video editing o anche solo un uso web del computer le DO devono calcolare continuamente processi complessi dedicati al flusso audio sia in ingresso sia in uscita e compensare eventuali latenze tra i plug in nonostante l'accesso continuo al disco e alla ram. Questo comporta uno sforzo enorme da parte del processore rispetto all'attività di cui abbiamo parlato prima. Pensiamo all'impatto ad esempio di suonare sulla tastiera e cantare facendo monitoring in tempo reale. Accumuleremo milisecondi che danneggiano la nostra performance. Un fatto irrilevante per chi fa invece video editing o foto editing o scrittura. Qualche millisecondo di ritardo non danneggia quel tipo di performance lavorativa. Nella maggior parte dei casi siamo costretti a trovare dei tricks particolari o scendere a compromessi magari usando una song vuota per registrare o un mixer esterno per fare il monitoring eccetera eccetera. Nel caso di alcune do come studio one come abbiamo visto diverse volte su questo canale è possibile usufruire di un sistema proprietario di zero latency monitor ma che comunque comporta sempre uno stress al processore. Abbiamo spesso parlato di latenza e cosa genera questa latenza? Lo abbiamo visto in un video passato sul mio canale che è linkato sotto in descrizione. Ovviamente una cpu che sta facendo data stream verso il convertitore che ci fa ascoltare dalle casse o dalle cuffie quello che stiamo facendo non deve essere distratta da altri tasks richiesti dai software o dalle interfacce di cui abbiamo parlato altrimenti il buffer non riuscirà ad essere riempito velocemente e dovremo ricorrere ad un buffer più ampio sacrificando ovviamente la latenza nel monitoring. Quando sostituiamo quindi la nostra cpu spesso sostituiamo tutto il sistema di bus correlato e collegato presente sulla motherboard, nuovo bus ram, bus pci, sata eccetera eccetera che sono meglio ottimizzati per il processore e migliorano la nostra performance in generale ma potrebbe non essere ancora sufficiente in alcuni casi potrebbe essere un cambiamento peggiore perché la cpu non è ottimizzata per il real time performance. Questo per dire che i benchmarks che appaiono su internet in relazione alla cpu non ci dicono tutta la verità o quantomeno non tengono in considerazione questo genere di problemi strettamente dedicati a chi fa audio recording. Soltanto caricando un nostro progetto potremo vedere il reale cambiamento e la reale performance della nuova cpu installata. Se prendiamo ad esempio un export audio di un progetto complesso o anche il rendering di un video ci accorgiamo subito che in questa fase la cpu lavora al 100 per cento rispetto al semplice playback che magari necessita soltanto del 60 o del 70 per cento. Questo perché per poter eseguire operazioni audio in real time quindi editing mentre ascoltiamo audio è necessario costringere la cpu ad un buffer più ampio che però sacrifica come abbiamo visto latenza oppure abbassare il buffer per avere meno latenza ma sacrificando risorse e mandando in crisi appunto la cpu che è costretta a sacrificare lo stream audio portandoci ad ascoltare dei clicks digitali o peggio. Gli hard disk ssd hanno migliorato tantissimo questo processo alleggerendo sia il buffering sia lo stream da e per il disco rigido ma anche gli ssd montati su pci o esternamente. Su sistemi pci esterni costringeranno il processore a dialogare attraverso un controller ed un bus diverso e questo comporterà ancora problemi di cpu overload rispetto allo stesso disco montato sulla motherboard direttamente. Ecco che capiamo ora facilmente il perché sistemi configurati ad hoc sono in grado di performare meglio di altri che possono ad esempio avere un processore più veloce ed ecco perché recentemente si è arrivati alla realizzazione di processori SOC, System on a Chip ovvero come ad esempio quelli ARM prodotti da Apple chiamati M1 o M1 che racchiudono al loro interno la RAM, il processore e la scheda video quindi tutto ciò che riguarda il processing video mantenendo una super connessione con l'hard disk a stato solido saldato sulla motherboard e in questo modo è possibile abbattere al massimo i collegamenti tra i bus e si limita al massimo il tempo di accesso alla RAM, alla scheda video e al disco che possono così performare più velocemente di qualsiasi altro processore soprattutto consumare meno energia e risorse. Lo stesso accade con le connessioni della nostra scheda audio come abbiamo visto sul video dedicato alla latenza le schede audio USB utilizzano un bus più lento rispetto a quelle su interfaccia Thunderbolt che dialoga direttamente con la RAM. Utilizzando quindi schede Thunderbolt non solo limitiamo il tempo di accesso riuscendo ad avere una latenza di circa 0.1 millisecondi anche una migliore performance del processore che sarà in grado di gestire al meglio il resto del sistema. Se mi avete seguito finora nel discorso avrete quindi scoperto che spesso il problema di performance tra CPU e DO non è il processore ma tutto ciò che circonda quindi il processore ossia la scheda video, la scheda audio, la scheda di rete, il controller USB, il controller dei dischi, dell'interfaccia PCI eccetera eccetera. Questo sistema è quindi compromesso molto molto spesso dalla scelta dei componenti che devono fare cooperazione con il processore. Il consiglio è quello di controllare sempre i forum su internet per capire quale device è migliore con un determinato processore o scheda audio o affidarsi a chi assembla PC per audio recording o a sistemi già chiusi come quelli dell'Apple. Aggiornare sempre i driver e controllare che gli aggiornamenti dei sistemi operativi non mettano in crisi quelli già installati. Un altro limite che potremmo poi incontrare è di carattere software. Molte volte alcuni plugin non sono scritti bene e non sono in grado di gestire un sistema di multi core ad esempio imputando la performance scarsa alla DO quando in realtà è di altra natura. Studio One ha introdotto come abbiamo visto un sistema di plugin app che mette a riposo i plugin che non vengono utilizzati in quello specifico momento facendoci risparmiare risorse ma il plugin a sua volta deve essere scritto per supportare questa feature e ancora molti di quelli vecchi non lo sono. Ma se possediamo una vecchia macchina come possiamo utilizzare ancora la DO in maniera creativa e funzionale? Molti di voi mi hanno spesso chiesto come faccio a far funzionare nei video una enormità di plugin con il vecchio Mac Pro del 2010 che a bordo ha dei processori Xeon Westmere da 12 core. Il segreto in questo caso non è nella macchina che nonostante l'età riesce a gestire egregiamente le risorse ma sulla configurazione del sistema soprattutto il mio workflow modificato per cercare di sfruttare al meglio tutti e due i processori e tutti i relativi cores che ne fanno parte. Il sistema operativo vediamo come ho configurato il computer. Per prima cosa ho installato una nuova scheda USB 3 a cui ho collegato tutte le macchine USB come la tastiera di Native Instruments, il controller di Presonus, Fatherport, Latom, SQ, Machine ed alcuni synth esterni. Mentre la scheda audio RME Fireface UFX Plus è stata collegata con un nuovo controller Thunderbolt rendendola molto molto più performante di prima quando era collegata invece via USB 3. La RAM è espansa al massimo 64 GB e gli hard disk sono tutti SSD limitando il tempo di accesso ai dischi e il consumo di energia che ora è più richiesta dalla scheda video che ho dovuto aggiornare per poter girare con OSX Mojave ed il suo Metal Graphic System. Il computer è quindi quello del 2010 ma con una serie di aggiornamenti mirati per poter migliorare al massimo le prestazioni. L'altro fattore è il mio workflow. Molti non sanno come una DAW gestisce il processing real time di cui abbiamo parlato prima e soprattutto non sanno come la DAW usa i cores a disposizione dove come vedremo la performance su single core è molto molto più importante di quella su multi core. La DAW gestisce quindi il processore in maniera molto particolare e solo nel caso dei virtual instruments riesce a gestire il multi core in modo più efficiente cosa che non è possibile fare gestendo il segnale audio. Vediamo alcune tecniche su come ad esempio ottimizzare l'arrangiamento e alleggerire il carico del processore. Una delle tecniche più usate nei sistemi più utilizzati in assoluto è quello di stampare la traccia che contiene gli effetti e che consumano più processore. In special modo i compressori, i distorsori e i riverberi. In questo Studio One offre delle soluzioni incredibilmente efficaci, veloci e richiamabili rapidamente. Vediamo un po' come fare. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito proadiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao a presto!